Salve a tutti e prima di tutto grazie Shined per le meravigliose parole che ho appena sentito, ma soprattutto grazie per l'amicizia che ci lega da anni e per avermi soprattutto insegnato a guardare oltre e per questa relazione preziosa che io coltivo oramai da tempo e quindi ti abbraccio da lontano. Sono estremamente dispiaciuto di non poter essere lì con voi, di non essere di nuovo a Londra che è una città che amo molto e mi è molto cara e dove ho anche vissuto. Purtroppo, come ben sapete, ci sono delle restrizioni legate a questa pandemia che spero presto ci abbandoni. Mi manca non essere lì fisicamente a ritirare con voi questo premio, mi mancano tutte le persone che conosco e che solitamente rivedo e riabbraccio in queste occasioni, ma con il cuore è come se fossi lì con voi. Sono particolarmente felice per questo premio perché è un premio che io in qualche maniera sento e percepisco come un riconoscimento nuovo, ma molto caro perché in questi quasi sette anni io ho cercato di sperimentare e di rendere possibile la costruzione di un panorama nuovo attraverso a volte anche sperimentazioni molto complesse e molto diciamo in qualche maniera anche molto ardite, ma questo mi dimostra che è importante continuare a esserci e a lavorare nella moda perché la moda è ancora una piattaforma interessante dove far succedere le cose. Ringrazio prima di tutto Marco che dopo tanti anni è non solo il mio presidente, ma anche il complice di tante avventure e oggi ci lega non solo un grande rapporto professionale, un grande rispetto reciproco, ma anche credo un grande bene è una grande amicizia. Ringrazio François Henry perché è lui che permette, ha permesso e condivide con noi come Marco questo viaggio, ma soprattutto tutte le persone che non si vedono, che ogni giorno lavorano con noi, con me, che rendono possibile questa avventura e sono centinaia, sono moltissime, quindi questo premio non è il mio, ma appartiene ad ognuna di queste persone e che ogni giorno sognano lo stesso sogno che faccio io. Approfitto per ringraziare anche il British Fashion Council per questo riconoscimento di questa sera, ma soprattutto per il grande lavoro che fanno ogni anno. E poi mi sento di chiudere questo saluto a tutti voi, restituendo questo regalo a una persona importante che in questo momento non è più con noi fisicamente, ma sicuramente è qui con noi questa sera, ed è Birgil. Io questo premio lo do a lui perché se oggi siamo qui è anche per lui e se oggi il mondo della moda non è più quello di 20 anni fa è anche e soprattutto grazie a Birgil e quindi io lo abbraccio, lo bacio e gli consegno questo premio. Ciao Birgil. Ciao Birgil.